Sono Cucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Che ha detto? Si, 78, scusi, non riesco a parlare tanto bene. Lavora? Lavoro con mio padre. A precedenti? Sì, non per droga. Si dichiara innocente o ammette l'addebito? Allora, io mi dichiaro innocente per quanto riguarda lo spaccio e colpevole per quanto riguarda la detenzione. Grazie a tutti.